Ciao a tutti, bentornati a questo nuovo video. Oggi svolgeremo una scheda d'esame. Risponderemo a 30 domande, in massimo 20 minuti di tempo. Mi raccomando, se avete dei dubbi o delle perplessità, scrivetelo nei commenti. E se ancora non l'avete fatto, seguite il mio canale e cliccate mi piace a questo video. Adesso, allacciamoci la cintura di sicurezza, perché iniziamo! Quiz numero 1. Lo spazio di frenatura è quello percorso dall'inizio della frenata all'arresto del veicolo. La risposta corretta è vero. Da quando inizio a frenare fino a quando mi fermo. Quiz numero 2. Lo spazio totale di arresto dipende dalle condizioni dell'asfalto. La risposta corretta è vero. Se l'asfalto è bagnato o comunque non ha una superficie aderente, rischio di scivolare e quindi lo spazio totale d'arresto aumenterà di conseguenza. Quiz numero 3. Per garantire l'aderenza e la stabilità del veicolo, bisogna controllare che la pressione di gonfiaggio degli pneumatici sia quella consigliata dalla casa costruttrice. La risposta corretta è vero. Non mi devo inventare io la pressione, ma devo cercare la pressione corretta nel libretto di uso ed equipaggiamento del veicolo. Quiz numero 4. La carreggiata comprende le piazzole di sosta. La risposta corretta è falso, perché per definizione la carreggiata è la parte asfaltata dove possono circolare i veicoli. Ricordatevi la zona in cui circolano i veicoli. Quiz numero 5. I sistemi di ritenuta per bambini sono classificati in gruppi. La risposta corretta è vero. Il seggiolino, che è il sistema di ritenuta, cambia in base al tipo del bambino che deve accogliere. Quiz numero 6. Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che impediscano o limitino la visibilità al conducente. Beh, la risposta è vero. Verissimo. Non posso portarsi una moto o qualcosa che mi impedisca la visibilità, eh? Non esiste. Mi raccomando. Quiz numero 7. Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri e a qualsiasi altro veicolo. Ricordiamoci che l'unico che può entrare con quel segnale è il pedone. Quiz numero 8. La sospensione della patente è disposta quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti prescritti. La risposta corretta è falso. La sospensione non c'entra nulla sui requisiti, o meglio, se sorgono dubbi sui requisiti prescritti per conseguire una patente. Quiz numero 9. Su strada a due carreggiate separate, come in figura, i veicoli che percorrono un dosso devono tenersi vicino al margine sinistro della carreggiata. La risposta corretta è falso. I veicoli che percorrono un dosso e quindi un punto dove non c'è visibilità devono rimanere comunque a destra della loro carreggiata. Quiz numero 10. La svolta a destra si effettua moderando la velocità man mano che ci si avvicina al punto di svolta. La risposta corretta è vero, ma a mano che mi avvicino al punto in cui devo girare, rallenterò sempre di più. Quiz numero 11. Durante le operazioni di traino di un veicolo in avaria, il veicolo trainato deve mantenere accese le luci posteriori in mancanza di altra idonea segnalazione. La risposta corretta è falso. Devo mettere in segnale mobile di pericolo dietro. Così capiscono che sono un pericolo e quindi il mio veicolo sta per essere trainato e portato dal meccanico. Quiz numero 12. La velocità deve essere particolarmente moderata quando, in mancanza di marciapiedi, i pedoni occupano la carreggiata. La risposta corretta è vero. Se i pedoni occupano la carreggiata, rallenteremo ancora di più. Quiz numero 13. Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore a scoppio, bisogna sostituire la marmitta catalitica quando la stessa è deteriorata o esausta. La risposta corretta è vero. Quando la marmitta è esausta o deteriorata, vuol dire consumata, bisogna sostituirla. Quiz numero 14. La luce gialla fissa si accende quando è ancora accesa quella rossa. La risposta corretta è falso, falsissimo. Come funziona? Si accende il verde che ci indica che possiamo passare, poi si accende il giallo che ci dice se hai impegnato l'incrocio liberalo, se sei prima dell'incrocio ti devi fermare, poi si accende il rosso che indica che ci dobbiamo fermare. Quiz numero 15. Chi è coinvolto in un incidente stradale deve allontanarsi sempre e subito dal luogo in cui si è verificato. La risposta corretta è assolutamente falso. Se siamo coinvolti in un incidente dobbiamo rimanere lì con gli eventuali feriti fino all'arrivo dei soccorsi. Quiz numero 16. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale accanto ad un percorso ciclabile. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato indica proprio la fine del percorso pedonale di fianco a quello ciclabile. Quiz numero 17. Il simbolo raffigurato indica il comando per azionare la segnalazione luminosa di pericolo. La risposta corretta è vero, verissimo. Schiacciando questo pulsante attivo tutti gli indicatori di direzione e quindi è la segnalazione luminosa di pericolo. Quiz numero 18. In caso di nebbia fitta è opportuno accodarsi al veicolo che precede quanto più vicino possibile. La risposta corretta è falso. Dobbiamo sempre mantenere un'adeguata distanza di sicurezza. Quiz numero 19. I delineatori raffigurati servono a visualizzare meglio l'andamento della strada. La risposta corretta è vero. Quiz numero 20. Il segnale raffigurato indica un parcheggio riservato ai medici. La risposta corretta è falso. Ci indica che se seguiamo l'indicazione della freccia troveremo l'ingresso del pronto soccorso. Quiz numero 21. Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente se si viaggia con le luci anabaglianti sempre accese. La risposta corretta è falso. Le luci anabaglianti in autostrada vanno proprio sempre accese. Quiz numero 22. Il segnale raffigurato preannuncia una immissione da destra con corsia di accelerazione. La risposta corretta è vero. Io vedo questo segnale e fra 150 metri da destra arriverà una corsia di accelerazione. Devo stare molto attento. Quiz numero 23. Non è obbligatorio soccorrere un ferito della strada se per farlo si crea intralcio alla circolazione. La risposta corretta è falso. Il ferito della strada va sempre soccorso. Quiz numero 24. Il segnale raffigurato si chiama proprio dare la precedenza ed indica che dobbiamo dare la precedenza a destra e anche a sinistra. Quiz numero 25. La distrazione durante la guida è una delle principali cause di incidenti stradali. La risposta corretta è vero. Non dobbiamo mai distrarci perché se no rischiamo di creare incidenti. Quiz numero 26. Il pannello integrativo raffigurato indica la possibile presenza di macchine operatrici in movimento. La risposta corretta è vero. Il pannello indica proprio macchine operatrici in movimento sulla carreggiata. Perciò siamo in vicinanza di lavori stradali. Stiamo attenti. Quiz numero 27. Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova di norma su strade a senso unico di circolazione. La risposta corretta è assolutamente falso. Se la strada era a senso unico, di fianco non aveva la linea continua. In questo caso indica una strada a doppio senso, o meglio una carreggiata, ed il veicolo è appena uscito da un tratto dove mancava la visibilità, che può essere una curva o un dosso. Quiz numero 28. Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un viadotto esposto ad improvvise raffiche di vento laterale. La risposta corretta è vero. Questo segnale si può trovare sui viadotti e indica che può provenire del forte vento laterale. Quiz numero 29. Nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine. A, E, V, H, C. La risposta corretta è vero, verissimo. Il primo a passare è A, poi c'è E, poi c'è V, poi c'è H e poi c'è C. Quiz numero 30 e abbiamo finito. La sosta e la fermata sono sempre vietate sugli attraversamenti pedonali. La risposta corretta è vero. Sull'attraversamento pedonale pedonale non si può fare la sosta e non si può fare neanche la fermata. Ok ragazzi, il video è terminato, spero vi sia piaciuto. Se è così, cliccate mi piace a questo video e seguite il mio canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!